Siamo qui ad Ecomondo e alle mie spalle con il prodotto LED Duty Track della famiglia Daimler Track a marchio Fuso, prodotto Fuso E-Counter che abbiamo portato in Italia nella sua gamma intera di versioni. Quindi un veicolo 100% elettrico che è in grado di percorrere diverse configurazioni, quindi allestimenti di batterie, dai 70 fino ai 200 km con una sola ricarica. Un veicolo molto versatile, un veicolo pronto, lo definiamo noi per qualsiasi tipo di allestimento, ma chiaramente ci sono delle emissioni tra le quali la raccolta di rifiuti soldi urbani che sono le emissioni a cui questo veicolo può veramente far bene all'ambiente, far bene a noi tutti e anche a chi lo guida perché è un veicolo estremamente confortevole ed estremamente silenzioso. Ma le nostre novità non finiscono qui, infatti dall'altra parte del nostro stand abbiamo i prodotti della famiglia Mercedes-Benz Trax che adesso andiamo a vedere insieme. Quindi eccoci qui invece nella parte del nostro stand di Mercedes-Benz Trax dove alle mie spalle c'è il veicolo E-Iconic, un veicolo pensato proprio per le emissioni di raccolta rifiuti soldi urbani un veicolo 100% elettrico che con le sue caratteristiche si sposa perfettamente alla programmazione e al lavoro per cui è stato pensato. Inoltre tutto E-Iconic oltre ad essere un veicolo amico dell'ambiente perché è completamente elettrico è anche un veicolo amico della sicurezza. La cabina che ha questo veicolo è una cabina da sempre progettata super ribassata ad ampia visibilità. Ecco questo è un fattore determinante per la sicurezza della strada e quindi è un veicolo non solo assolutamente green ma un veicolo assolutamente sicuro adatto per la circolazione delle strade urbane. Grazie.